Pizzicati dalla polizia con in auto capi d'abbigliamento pregiati, risultati rubati in una ditta di Arcugnano. Capi spalla, giubbini, giacconi e piumini, 15 in tutto per un valore di 34 mila euro. Gli agenti hanno indagato in stato di libertà con l'accusa di ricettazione tre nomadi di 45, 37 e 39 anni, tra loro cugini e residenti in via Cricoli a Vicenza. Secondo quanto appurato, il titolare dell'azienda, AOTSRL di Arcugnano, aveva caricato la sua auto, poi regolarmente chiusa, con i capi per portarli in Toscana. I ladri hanno scassinato l'auto e trafugato quanto più potevano per poi tornare alla volta di Vicenza, dove però sono incappate nel controllo della volante.